Oggi, 30 novembre, la Chiesa Cattolica festeggia San Galgano Guidotti, la spada nella roccia. La spada nella roccia esiste davvero. La leggenda di Re Artù che estrae la spada Exalibur da una roccia e dei cavalieri della tavola rotonda avrebbe origine dalla storia di San Galgano Guidotti, nato nel 1148 circa in Toscana, a Chiusdino, Siena. I genitori Guidotto e Dionisia, ricchi e nobili, pregano l'arcangelo Michele di poter avere un figlio. Nasce l'atteso bambino che viene chiamato Galgano. Cresce forte e vigoroso nel suo castello. Diventa un bel cavaliere, dedito però ai combattimenti e alle gozzoviglie, in un mondo quello medievale caratterizzato dalla violenza, dove a vincere è il più forte. Mamma Dionisia prega per l'amato figlio e soffre per il suo comportamento scape strato. Una notte il superbo e prepotente Galgano sogna l'arcangelo Michele e questo fatto lo turba. In seguito lo sogna ancora e questa volta il bellissimo arcangelo lo conduce presso un prato fiorito e gli presenta la Madonna e i dodici apostoli in una casa rotonda. Il giovane cavaliere riflette sulla sua condotta e capisce che quella vita non lo soddisfa più. Un giorno mentre si sta recando dalla sua promessa sposa Polissena, il cavallo si ferma nei pressi del monte Siepi, Siena, e non vuole più andare avanti. Galgano scende da cavallo e prega Dio di aiutarlo a capire quale sia la sua missione. Sente una voce interiore che arriva dal cielo. Ora tutto è chiaro. Quello è il luogo dove Galgano deve restare per cambiare completamente vita, lodare il Signore e fare del bene agli altri. Prende la sua spada e la conficca nel terreno roccioso a formare una croce. Il suo mantello, orgoglio di ogni cavaliere, diventa il suo umile saio. Si costruisce una capanna e si ciba di erbe selvatiche e del pane che qualche anima buona gli regala. Prega e compie miracoli di guarigione. Dopo la sua morte, avvenuta a Chiusdino nel 1181, a Monte Siepi, è stata costruita una chiesa rotonda che costudisce la spada nella roccia e accanto un'abbazia caratterizzata dalla mancanza del tetto. Questi luoghi oggi sono mete di visitatori affascinati dal magico paesaggio toscano che riporta indietro nel tempo e soprattutto di bambini attratti dalle leggendarie gesta di Re Artù e dalla sua mitica spada nella roccia. Abbiamo trasmesso Ecco chi è San Galgano Guidotti, La spada nella roccia, breve a geografia tratta dal libro di Mariella Lentini, Santi, compagni guida per tutti i giorni.